Mi piace cominciare quando parliamo ad esempio di un autore come Pirandello, cioè di uno dei grandissimi, con una considerazione che Nino Borsellino, che è uno dei critici, secondo me rimangono eccellenti, sull'opera di Pirandello e non ha niente a che vedere col giudice, tanto per chiarire. Ecco, Nino Borsellino parla di una modernità permanente di alcuni autori, tra i quali naturalmente Pirandello, che si può riscontrare dall'uso comune che ormai è invalso nella nostra cultura, diciamo, di parole, frasi, espressioni, modi di dire che sono tratti propriamente da questi autori. Allora, ad esempio, per Pirandello parliamo addirittura di derivati dal suo cognome. Pensiamo all'aggettivo pirandelliano o al sostantivo pirandellismo che noi usiamo in realtà abbastanza comunemente, comunque è entrato nel nostro lessico frequente per significare alcune cose in particolare, cioè ci sono veramente dei concetti che sono espressi attraverso questi, diciamo, derivati. Ad esempio, quando noi parliamo di qualche cosa di pirandelliano, chiaramente ci riferiamo a un personaggio che ha problemi di crisi di identità, comunque problemi di tipo psicologico che ha delle complessità, oppure parliamo di situazioni che appaiono contraddittorie, difficilmente comprensibili, verità che non si riescono a smascherare, verità che rimangono quindi irrisolte dando luogo a una incertezza. insomma, oppure addirittura parliamo, quando usiamo pirandelliano o pirandellismo, ovvero parliamo di una qualche stravaganza intellettuale. Ecco, questo per dire, mi sembra un approccio, ripeto, simpatico e che ci chiarisce sulla popolarità, è vero, e sulla fama tuttora attuale, persistente di pirandello, ci aiutano quindi a capire già quali sono gli ambiti, gli ambiti tematici di contenuto di cui si occupa pirandello. Ma sempre come approccio, io credo che sia importante sottolineare fin da subito questa sorta di creatività illimitata di pirandello, che ha percorso fin dalla più giovane età e fino letteralmente all'ultimo giorno di vita, ha percorso tutti i generi della letteratura, a partire dalla poesia, la novellistica, il romanzo, il teatro, la saggistica, è vero. E, cosa appunto abbastanza particolare, non ci sono delle fasi nella produzione pirandelliana, per dire, non ha iniziato con la poesia così com'è nella realtà, per poi abbandonarla e dedicarsi ad un altro genere letterario. Assolutamente. Diciamo che Pirandello più o meno ha portato avanti contemporaneamente la sua produzione un po' in tutti questi generi letterari. Ad esempio, se è vero, come dicevo, che ha iniziato come poeta e ci sono delle raccolte di poesie interessanti, per carità, che comunque non costituiscono certamente il nucleo più significativo della sua produzione letteraria. Dicevo, ci sono delle raccolte di poesie negli anni 90. Pirandello nasce nel 1867. Va detto subito perché lo dobbiamo contestualizzare, naturalmente. Allora già intorno agli anni 85 e 90 vengono pubblicate queste raccolte di poesie, Malgiocondo, Pasqua di Gea, ad esempio. Ma contemporaneamente inizia a lavorare sul genere novella e questo lo porterà avanti praticamente per tutta la sua vita di intellettuale. Contemporaneamente comincia a lavorare anche sul romanzo, quindi sulla storia lunga, novella e romanzo hanno delle differenze, vero lo sappiamo, che fanno capo fondamentalmente alle dimensioni dell'opera, al numero dei personaggi, quindi proprio alle dimensioni. Allora anche sul romanzo, il teatro, la drammaturgia pirandelliana risale nella sua prima origine, addirittura prima dei vent'anni dell'autore. Poi sono opere giovanili, alcune delle quali assolutamente non sono state recuperate, altre recuperate ma non significative. Ma da lì poi continua, continua, ripeto, proprio sulla produzione teatrale fino all'ultimo giorno di vita, quando non potendo più scrivere, comunque detta al figlio le ultime parti o comunque l'intenzione, parliamo dei giganti della montagna, vero? Le intenzioni su quello che doveva essere secondo lui il finale dei giganti della montagna. Allo stesso modo per quanto riguarda, possiamo dire, vero, per quanto riguarda articoli o saggistica, articoli pubblicati su riviste, su giornali e la saggistica, anche la parte proprio centrale, vero, della sua attività di letterato che prevede la creazione, la stampa poi, l'edizione di quel saggio fondamentale che è l'umorismo di cui dovremo naturalmente parlare. Ecco, questo per dire che è un autore per cui non possiamo dire ci occupiamo prima di questa fase e poi ci sono delle variazioni o di interesse suo o di tematiche per cui c'è una seconda fase a cui possiamo, che possiamo in qualche modo considerare un capitolo a sé, una seconda parte. No. Allora, la mia scelta è stata quella di dividere i generi. Oggi parleremo quindi della produzione, diciamo, di narrativa, non la poesia, ve lo dico subito, escludiamo la poesia non perché non sia interessante ma perché rispetto a tutto il resto sicuramente assume un ruolo secondario. Quindi ci occuperemo della narrativa e del saggio centrale che presiede veramente in forma di sé tutta la produzione pirandeliana, l'ho detto prima, l'umorismo. Mercoledì prossimo invece ci occuperemo del teatro. Ripeto, non è una distinzione cronologica, non è una distinzione di fasi evolutive in termini appunto di contenuti, di temi, di scelte tematiche. È una distinzione di comodo, anche perché quando parliamo del teatro pirandeliano noi dobbiamo aprire un capitolo a sé stante. Tali e tante sono le novità che contempla che dobbiamo necessariamente riservare un discorso a sé. Quindi la scelta direi abbastanza inevitabile è questa. Quando parliamo di Pirandello nella sua complessità noi ci riferiamo a scelte di tematiche che riguardano tutta la sua produzione, quindi indistintamente narrativa e teatro. Ma poi invece la distinzione la facciamo noi proprio perché, come vi dicevo, introduce delle novità che ribaltano addirittura la concezione dell'opera drammaturgica, della rappresentazione teatrale. E quindi mercoledì prossimo. Ecco, ci rimane una necessità di contestualizzazione di Pirandello nel suo tempo. Abbiamo detto 1867 la data di nascita che ce lo colloca quindi immediatamente come momento di maggiore creatività, di maggiore produzione, a cavallo tra i due secoli, tra l'800 e il 900. Per arrivare poi ai primi decenni del 900, Pirandello muore nel 1936, quindi c'è tutto questo trentennio abbondante del 900 che è proprio l'epoca centrale di una nuova letteratura, nuova dal punto di vista della creazione di personaggi. L'abbiamo già visto con Svevo e quindi ci risulta forse un pochino più facile, vero, richiamarci a questo, al fatto che quindi si acquisisce nella letteratura europea, e quella proprio ad altissimo livello, una necessità di creazione di nuovi personaggi, che non sono più gli eroi positivi, gli eroi letterari si intende, vero, positivi tipicamente ottocenteschi, ma sono appunto questi personaggi che testimoniano una difficoltà, che testimoniano quindi un disagio profondo e questo nasce da un terreno comune, diciamo naturalmente, da un terreno comune che è quello della consapevolezza di una crisi di tipo culturale, ideologico, vero, addirittura, che sta a significare crisi nella ragione in fin dei conti. L'Ottocento è il secolo del positivismo, prima l'illuminismo, vero, addirittura che aveva scoperto in fin dei conti la ragione e l'applicazione della ragione alla realtà umana, nella decodificazione della realtà umana. Il positivismo che ne aveva fatto l'elemento centrale della scienza e dell'applicazione della scienza alle necessità dell'uomo. Ebbene, tutto questo va in crisi tra l'Ottocento e il Novecento. Guarda caso, proprio in corrispondenza di quella fase di rivoluzione industriale che avrebbe dovuto all'opposto, determinare una reazione di fiducia in fondo nella scienza, come era stato nella fase centrale dell'Ottocento. Invece no, perché questa rivoluzione industriale, questa seconda rivoluzione industriale che poteva promettere, ripeto, le magnifiche sorti progressive in cui non credeva neppure Leopardi, ma in realtà è deludente perché non suscita con tutte le contraddizioni che comporta questo momento di cambiamento, di trasformazione, di passaggio delle strutture produttive, di conseguenza della struttura sociale, quindi un passaggio culturale, vero, importante, ma determina invece, dicevo al contrario, tutta una serie di contraddizioni. di difficoltà. Noi lo sappiamo, le prime fasi dell'industrializzazione sono improntate a una contraddizione per cui non si crea quel benessere vero, ampio, in cui si sperava. Allora esplodono le contraddizioni sociali e poi, sempre, questa prima fase del Novecento coincide con quelle tensioni di tipo storico-politico che porteranno alla Prima Guerra Mondiale, che Pirandello vivrà non a lui direttamente, ma nelle persone dei suoi figli, ad esempio. Bene, tutto questo periodo di cui avevamo già parlato, a cui avevamo fatto accenno a proposito di Svevo, vero, suscita comunque questa sorta di delusione e quindi questa crisi nei confronti delle certezze del passato. non è più, quindi, quella scienza con capacità euristiche, cioè di scoprire, di arrivare a qualche verità che possa essere utile, vantaggiosa, vero, per l'uomo. È un momento in cui sembra veramente di aver perso tutte quelle solidità, quei valori tipicamente ottocenteschi, comunque, del passato, i valori tradizionali di una società contadina, fondata anche sulla solidarietà, ad esempio, e di non avere sostituzioni. La ragione ha anche smantellato in buona misura la fede e di conseguenza ha lasciato un vuoto, ecco allora il disorientamento dell'uomo tipicamente, appunto, europeo, occidentale, diciamo, e comunque del primo novecento. Poi si verificheranno altre situazioni, la storia cambierà, ci sarà anche una seconda guerra mondiale, e cambieranno anche, dal punto di vista letterario, i personaggi. Ma in questa fase, vero, del novecento, siamo nel pieno di una consapevolezza della crisi. Bene, di questo quindi poi riparleremo, perché è davvero l'elemento centrale, in fondo, della poetica, che significa scelte espressive, ma anche scelte di contenuti, scelte tematiche, vero, della poetica di Pirandello. E aggiungo, invece, un altro elemento che ci aiuta ad avere un approccio, è vero, io spero il più completo possibile, con l'autore. La sicilianità. Ora, abbiamo detto che Pirandello nasce nel 1867, è importante ricordarlo sempre, nasce in Sicilia, a Girgenti, oggi a Grigento, anticamente, vero, colonia greca, con il nome di Akragas, e lo dico non per, così, qualche mania culturale, ma perché questa grecità, sicilianità, mista a grecità, quindi questa mitologia, vero, di una Sicilia, che ha le sue radici, anche nella Magna Grecia, nell'antica Grecia, questo sarà molto caro a Pirandello, che, ad esempio, nel raccontare, e lo vedremo poi nelle diapositive, perché è veramente interessantissimo e particolare, le origini, la sua nascita, dice di essere figlio del caos. Perché figlio del caos? Perché nasce in questo luogo, non a Girgenti, ma nella campagna di Girgenti, dove la famiglia si era rifugiata per sfuggire a una delle tante epidemie di colera che si diffondevano rapidamente, vero, nelle città. Allora, da Girgenti si spostano in questa loro piccola proprietà in campagna che si chiama Cavuso e, anticamente, ci dice Pirandello, che, peraltro, è filologo, ovvero è laureato in filologia, ci dice che deriva dalla parola greca caos. Allora, lui è figlio del caos. Questa proprietà, questa villa in cui nasce, questa villetta, nella campagna chiamata Cavusu, in realtà è la villa del caos, la casa del caos. E lui lì nasce. Allora, è una metafora, vero, che risale a una sorta di mitologia greco-sicula, come dicevo prima, ma è una metafora a cui lui tiene moltissimo perché è una sorta di predestinazione. Lui è nato lì, nella villa del caos, perché è, in realtà, figlio del caos e di questa cultura greco-sicula, ma soprattutto siciliana, naturalmente, che traspare in tutta la sua opera. Ecco, questo è un elemento, lasciatemelo dire, di una qualche novità nella interpretazione dell'opera di Pirandello. In questo senso, fino a qualche decennio fa, quindi non tantissimo, vero, in fondo, diciamo, fino agli anni 85-90, questa sicilianità, o per meglio dire, sicilitudine, come la chiama Sciascia, altro eccellente figlio di Sicilia, vero? Bene, questa sicilitudine pirandelliana era stata misconosciuta, non era considerata come un elemento caratterizzante della sua opera, comunque come un elemento costante nella sua opera. Al contrario, per fortuna, appunto, sono stati poi, invece, elaborate delle analisi diverse, degli studi diversi, che hanno messo in evidenza, che hanno messo in luce quanto è importante l'origine, vero, di cultura siciliana, che Pirandello comunica, che davvero è una sorta di erede, in fondo, di questa sicilitudine, poi, appunto, reinterpretata, alla luce di questa modernità, di cui stiamo parlando, vero, che caratterizza tutta la produzione di Pirandello, ma rimane comunque di base anche questo fondo di sicilianità. E dove lo ritroviamo? Allora, c'è un romanzo, di cui parleremo poi anche oggi, perché l'ho richiamato nelle diapositive, che è I vecchi e i giovani, in cui, certo, la sicilianità era inevitabile, cioè non si poteva non vedere, troppo evidente, e questo è sempre stato riconosciuto, ma nello stesso tempo questo romanzo, che parla della Sicilia, della storia della Sicilia, della storia della Sicilia, voglio dire, a partire dal 1870, quindi di una Sicilia contemporanea, vero, a Pirandello, con tutti i fallimenti che questa storia denuncia, e di cui poi diremo, ebbene, questo romanzo era considerato generalmente l'unico romanzo di impostazione, di caratteri tipicamente siciliani, di Pirandello, di ambientazione siciliana di Pirandello, proprio perché, ripeto, è inevitabile accorgersi, è ambientato in Sicilia, poi naturalmente anche in altri luoghi, a Roma, dove ci sono i centri di potere, ma comunque è tutto vero, fa tutto riferimento alla Sicilia e ai personaggi della Sicilia. A parte i vecchi e i giovani, tutto il resto invece no. I vecchi e i giovani sono un romanzo ancora di stampo, un po' ottocentesco, in fondo nella struttura, è vero, ma per tutto il resto, anche nei vecchi e i giovani, ci sono personaggi tipici del mondo pirandelliano, ci sono personaggi che ritroviamo poi sviluppati diversamente, contestualizzati diversamente, ma che ritroviamo nei romanzi, nelle rovelle, nel teatro di Pirandello. Quindi questa separazione, vero, che era stata fatta, i vecchi e i giovani, romanzo tradizionale, unico romanzo tradizionale di stampo verista di Pirandello, unico romanzo che in qualche modo richiama la Sicilia, è caduta. Per fortuna, finalmente, io ne ero assolutamente convinta, ero convinta che non fosse una giusta interpretazione. È il romanzo più siciliano, se vogliamo, ma in tutta l'opera di Pirandello c'è questo carattere che è, sì, allora, il nodo centrale, in fondo, di quella che noi diciamo sicilitudine. Quindi quella sensazione di amarezza di fallimento che viene da una convinzione di fallimenti secolari addirittura e che la cultura siciliana si porta dietro dalle, diciamo, da verga in poi, vero, attraverso, passando attraverso Federico de Roberto con i vicere, Tomasi di Lampedusa con il Gattopardo, Leonardo Sciascia con tutta la sua produzione e anche Pirandello. Certo che c'è in Pirandello questo aspetto evidentissimo di un disincanto, di una disillusione, di uno scetticismo che è tipico dell'anima siciliana. Ecco, questo a me sembra assolutamente da rilevare in un approccio all'autore che sia, dico io, spero, il più completo possibile. Non si può trascurare. Pirandello fa riferimento a un bagaglio, diciamo, di personaggi, episodi, situazioni, non soltanto tipici della Sicilia, ma addirittura del suo luogo d'origine, addirittura di Girgenti. Lui ricava da questa, da questa sua esperienza di vita siciliana da cui poi si allontanerà, molto presto, tra l'altro, prima a Bonn e poi definitivamente a Roma, dove rimarrà per tutto il resto della sua vita, diciamo, a partire dagli anni 90-95 in poi, ma rimane comunque presente, vero, nella sua formazione tutto questo patrimonio, diciamo, di personaggi, episodi, modi di vedere la vita, punti di vista che sono tipicamente siciliani, appartengono all'anima siciliana e noi poi di volta in volta cercheremo di recuperarli, vero, di ritrovarli questi aspetti nelle opere di cui ci occupiamo. Ecco, ma per esemplificare concretamente e quindi io spero più chiaramente, quello che noi intendiamo quando parliamo di personaggio tipicamente pirandelliano, io credo che sia opportuno fare riferimento ai due personaggi che appaiono più compiuti, vero, nella produzione, nell'ambito della produzione pirandelliana e che sono Mattia Pascal e Vitangelo Moscarda. L'uno è il protagonista del film Mattia Pascal e l'altro il protagonista di uno nessuno e centomila. Ma perché io dico i più compiuti? Perché naturalmente sono i protagonisti di romanzi, quindi di una storia lunga in cui l'autore ha la possibilità di sviscerare meglio è vero le reazioni e l'evoluzione dei personaggi che porta i due protagonisti da una normalità di vita a una straordinarietà di soluzione di vita. Allora appunto brevemente e proprio per arrivare a questo tipo di chiarimento ovvero raccontiamo dei due personaggi il Fumatia Pascal il titolo stesso ovvero è sorprendente diciamo ed è il romanzo che ha dato fama e successo a Pirandello. Ecco tra parentesi e molto rapidamente anche per Pirandello gli esordi sono stati estremamente difficili dico anche per lui richiamando Svevo ovvero e la fama che è arrivata con il Fumatia Pascal 1904 è comunque viene comunque dopo almeno 15-20 anni di lavoro e di produzione e di tentativo di farsi conoscere attraverso tutti i canali possibili che sono fondamentalmente come dicevo quelli delle riviste letterarie e dei giornali. Finalmente arriva questo momento di grande successo il Fumatia Pascal è in realtà un romanzo avvincente lo dico da un punto di vista proprio di lettore normale in cui si racconta di questo uomo qualunque proprio il tipico uomo qualunque inetto aggiungiamo questa parola vero che in fondo ingabbia un po' i personaggi letterari gli eroi gli anti-eroi anzi della letteratura primo novecentesca ma così ci intendiamo anche su questo quindi un personaggio senza particolari qualità senza particolari entusiasmi propensioni al contrario come appunto tutti i personaggi di cui dicevamo ha una spiccata tendenza all'abbandono a lasciar perdere alla rinuncia alla fuga dalla realtà ecco questo giusto per farlo rientrare in questa tipologia di cui abbiamo già parlato che abbiamo già annunciato ebbene si ritrova coinvolto in un matrimonio che di cui non era particolarmente convinto e per alcuni anni vive una vita di così dramma continuo con questa suocera la vedova pescatore e richiamo questo nome perché ha una sua una sua notorietà questa suocera che è terribile che ce l'ha con lui perché per la figlia voleva ben altro e a un certo punto quando è davvero sul punto di fuggire dicevo la propensione vero l'inclinazione alla fuga dalla realtà e si allontana effettivamente dalla casa dopo la morte peraltro di questa figlioletta piccina che non era mai stata sempre stata gracile per cui più niente sembrava legarlo a quell'ambiente decide quindi di allontanarsi non è una decisione definitiva quella che assume Mattia Pascal ma c'è una coincidenza legata a questa casualità della vita altro elemento dominante nei temi pirandelliani e non solo di Pirandello ma proprio degli autori del tempo la casualità della vita mentre lui si allontana in modo così ancora molto confuso molto vago legge sul giornale di un morto vicino alla casa dove abitava con la famiglia che è stato riconosciuto come Mattia Pascal un suicida riconosciuto come Mattia Pascal e quindi prontamente sepolto e così chiusa la vicenda per dirla appunto molto brutalmente ma perché Mattia fin da subito concepisce l'idea che questa sua presunta morte avrebbe fatto molto piacere alla vedova pescatore ad esempio allora Mattia decide di morire davvero di morire come Mattia Pascal e intraprende questo viaggio senza una meta precisa la straordinarietà del caso vuole che vinca una fortuna veramente non esagerata ma considerevole comunque al casino e sulla base di questi due casi della vita che si sono sommati nello stesso momento insomma decide di sparire e di rifarsi una vita di rifarsi una vita come Adriano Meis quindi una nuova identità perché se vogliamo dare un nome definitivo centrale e definitivo a questo tema e a questa tipologia di personaggi noi dobbiamo anche dire che la crisi di questi personaggi anti-eroi uomini qualunque senza particolari qualità è la crisi di identità cioè è il chiedersi davvero chi siamo in una società così complessa e rispetto alla quale questa tipologia umana non ha la capacità di entrare in un rapporto diciamo operoso ecco è sempre dall'esterno rimane sempre ai margini questo tipo di personaggio bene tornando al nostro Mattia Pascal diventato Adriano Meis adesso possiamo operare una sintesi rapidissima vero perché non ce la fa non è possibile senza un'identità ufficiale non potrà mai avere una vita allora è la forma eccolo il tema pirandelliano della forma e della vita espresso appunto attraverso le vicende di questo nostro personaggio senza la forma che sono appunto le sovrastrutture create dall'uomo che sono la burocrazia tutto quello che riguarda la burocrazia anche una semplicissima carta di identità ebbene senza tutto questo l'uomo in realtà non esiste Adriano Meis non esiste e allora non può fare niente non può affittare una casa poi si lo farà ma mentendo continuamente non può sposarsi naturalmente eppure conoscerà una giovane donna che potrebbe piacergli avrebbe potuto piacergli e la vita è veramente bloccata allora arrivato all'esasperazione di tutto questo all'esasperazione della finzione che una vita di questo genere gli impone inevitabilmente ebbene decide di uccidere Adriano Meis quindi finge un suicidio ovvero di questo personaggio creato da lui e ritorna la sconfitta il fallimento ecco lo scacco questa è la 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 prodo questo è la prodo vero di un personaggio come Mattia Mattia Pascale lo scacco torna al paese rassegnato naturalmente ma scopre che la moglie nel frattempo si è sposata con un altro da cui ha avuto una bambina allora tutto quello che avrebbe voluto voluto fare vero Mattia Pascale gli viene invece impedito lui ha una una sua etica diciamo se c'è un figlio non è possibile pretendere di essere riconosciuto come primo e unico valido marito della di questa di questa sua moglie perciò si riduce a una vita marginale torna a frequentare la biblioteca era bibliotecario ovvero la sua attività nella nel paese d'origine era appunto quella del bibliotecario si riduce quindi a questa a questa attività e la sua identità è assolutamente indefinita non può più essere Adriano Meis questo l'abbiamo ben capito ma non può essere nemmeno Mattia Pascale nel pieno della della sua appunto identità quindi può essere soltanto il fu Mattia Pascale ecco questo per porre tutto in modo voglio dire concreto no sull'esempio quindi di una storia inventata creata da Pirandello per porre alcuni dei suoi temi centrali quello dell'identità e quello della forma che si contrappone alla vita questo ce lo dirà sempre Pirandello in tutta la sua produzione la forma è contraddittoria rispetto alla vita perché è statica e siamo noi a creare la forma cioè questa sorta di gabbia entro la quale l'uomo deve vivere gabbie gabbie di vario di vario genere ma la vita non è quella la vita quella è l'apparenza della vita la vita in realtà è fluida è dinamica è in continua evoluzione e quindi non può essere contenuta appunto in una sorta di schema fisso rigido che è la forma bene tutto questo si traduce poi nell'altro romanzo uno nessuno e centomila che è il romanzo appunto della identità che parte sempre dalla vicenda di un uomo qualunque in questo senso assolutamente identico a Mattia Pascale a tutta una serie infinita di altri personaggi pirandelliani che casualmente si accorge perché è la moglie che glielo dice di un difetto al suo naso che prima non aveva mai visto bene basta questo per dare origine a una serie di indagini o meglio di tentativi di indagine sul vero se stesso sulla sua vera identità perché così come lui non si era mai accorto di questo difetto del suo naso allo stesso modo non si era mai accorto di tutta una serie di caratteri che gli vengono attribuiti in prima istanza dalla moglie ma poi anche da altri personaggi che incontra e che improvvisamente gli aprono cioè è una sorta di epifania vero anche questa una rivelazione improvvisa quello che lui crede di essere per sé e bene non è allo stesso modo per gli altri e allora la domanda inevitabile che viene di conseguenza è che questo che vale per lui naturalmente vale per tutti allora anche lui a sua volta avrà degli altri una considerazione una verità che non corrisponde a una realtà che non corrisponde a qualche cosa di autentico allora è praticamente impossibile tutto il romanzo vero si svolge su questa su questa tematica è impossibile riuscire a dare una identità autentica a se stessi così come è impossibile agli altri perché noi parliamo ma quello che diciamo non arriva alle orecchie altrui con gli stessi identici significati viene reinterpretato travisato interpretato in base a una serie di nostri modi di vedere di essere e di conseguenza la comunicazione diventa veramente più che difficile impossibile e si parla quindi di incomunicabilità e assolutamente conseguente a un discorso di incomunicabilità di solitudine e il personaggio il protagonista di Uno Nessuno e Centomila che è questo Vitangelo Moscarda è vero finirà dopo una serie di vicissitudini alcune delle quali anche umoristiche è vero così come è in tutta la narrazione pirandeliana ma dopo una serie incredibile di vicende arriverà una soluzione ritirarsi allontanarsi da tutto e da tutti e vivere da solo in un tentativo senza più niente con una specie di saio e dei sandali ma proprio in un tentativo di ricrearsi ogni giorno nuovo perché fissarsi in una forma per sé o per gli altri significa non vivere è questo che tende quindi a fare la vita ci dirà proprio alla fine del romanzo vero Vitangelo Moscarda non conclude perché se conclude è finita la vita è in continua evoluzione allora l'unica possibilità per l'uomo Vitangelo Moscarda è quella di ritirarsi in questa solitudine a contatto con la natura ecco la natura è una realtà salvifica in questo caso ma mai fissare la mente il pericolo è la mente è il pensiero perché è la mente che tende a definire in forme quello che non può essere definito perché ripeto ma occorre insisterci è in continua evoluzione bene adesso passiamo invece alle diapositive che ci aiutano vero a capire anche qualche cosa di più almeno almeno speriamo e vediamo se facciamo subito i passaggi giusti ecco ci siamo è visibile è visibile benissimo vedo se riesco ecco a spostare di lato almeno per adesso bene questo qui è naturalmente il titolo dicevo la crisi delle certezze perché a mio avviso se vogliamo fare davvero una summa della della poetica pirandelliana possiamo utilizzare questa espressione Pirandello ci racconta la crisi delle certezze bene molto rapidamente in queste prime diapositive ho elencato la produzione pirandelliana escludendo le poesie per il motivo che ho detto prima voi vedete nei romanzi vero che sono sette 1904 il fumo a tia pascal e poi 1906 uno nessuno e centomila passando attraverso i vecchi e i giovani e quaderni di Serafino Gubbi operatore sui quali pure ci fermeremo poi invece a lato in basso l'elenco dei saggi e degli articoli per carità i più importanti perché è un'infinità la produzione vero di articoli e di saggi di Pirandello che ha cominciato intorno ai 20 anni a scrivere vero articoli e saggi certamente pubblicati sui giornali ma che non gli hanno dato comunque nessuna fama e nessun vantaggio economico dal punto di vista economico Pirandello ha molto sofferto è vero in un momento particolare poi della sua vita di cui avremo modo di parlare forse di più a proposito del teatro poi ecco questo è un elenco ma che scorriamo ancora più rapidamente vero delle opere teatrali come vedete la prima 1910 sembra essere stata quindi scritta e pubblicata e prodotta in un periodo già un pochino più maturo della sua vita invece no perché pubblicata sì nel 1910 ma scritta negli anni 90 addirittura nell'88 quindi c'è una gestazione precedente vero che ci fa capire come Pirandello si sia occupato di teatro fin da subito in pratica fin dall'inizio della sua attività di scrittore bene poi tutto quest'altro elenco che arriva alle opere sempre più note sempre più di un Pirandello quindi sempre più maturo e voi vedete che io a parte ho indicato più o meno all'altezza dell'anno che gli corrisponde vero i sei personaggi in cerca d'autore commedia da fare perché perché se noi abbiamo detto prima che il teatro Pirandelliano presenta una serie di novità e di modificazioni vero che rimarranno indelebili nel teatro successivo bene in tutto questo processo di rinnovamento di reimpostazione del teatro i sei personaggi segnano un passaggio veramente centrale ecco perché l'ho messo a parte e poi tutte le altre gli altri drammi commedie veroscritte ripeto fino all'ultima che voi vedete porta la data ai giganti della montagna del 1937 come Pirandello muore nel 36 ecco ma vi dicevo prima così accidentalmente Pirandello muore praticamente creando non si può dire scrivendo perché negli ultimi giorni non riusciva di polmonite peraltro e negli ultimi giorni non riusciva più a tenere in mano la penna allora detta al figlio e rimane comunque incompiuta l'ultima parte dei giganti della montagna e sarà proprio il figlio Stefano Pirandello vero a riproporre questo finale così come era nella mente del padre Stefano Pirandello a sua volta è un autore è un letterato e quindi è in grado voglio dire di trascrivere il meglio possibile quello che il padre aveva in mente naturalmente dobbiamo sapere che fino a un certo punto è a tutti in tutti i suoi aspetti di Pirandello e in questa parte finale vero in quest'ultima parte dell'ultimo atto c'è invece un intervento del figlio Stefano a proposito dei figli di Pirandello scusate scorro rapidamente ecco per tornare alla prima diapositiva dove voi vedete questa immagine di Pirandello nel ritratto del figlio ritratto dal figlio Fausto Pirandello pittore di fama pittore di talento che ha avuto tutto un suo percorso ed è tuttora vero considerato un pittore di qualità ma non così tra i tanti ecco in effetti l'altro invece autore che aveva cambiato il cognome in Landi proprio per non essere confuso vero con questo padre ingombrantissimo e famosissimo che era Luigi Pirandello eccolo qua la villa del caos di cui Pirandello parla in un frammento di autobiografia incompiuta che lui ha intitolato informazioni sul mio involontario soggiorno sulla terra pensate quanto è pirandelliano questo titolo vero e in cui ci dice una notte di giugno caddi come una lucciola sotto un grampino solitario in una campagna d'olivi saraceni affacciata agli orli di un altopiano d'argille azzurre sul mare africano la notte il suo nero pare lo faccia per esse che volando non ora qua ora là vi aprono un momento quel loro languido sprazzo verde qualcuno ogni tanto cade e si vede allora sì e no quel suo verde sospiro di luce in terra che pare perdutamente lontano così io vi caddi quella notte di giugno e questa è la lapide sempre nella villa nel giardino della villa del caos vero dove sono state incise alcune di queste parole che abbiamo letto insieme che sono proprio di Pirandello la prima parte di questo brano arriviamo invece all'umorismo che secondo me è prioritario non cronologicamente ma per comprendere meglio la poetica pirandelliana dobbiamo necessariamente partire da questo saggio perché tutta l'opera di Pirandello in fondo è improntata a questo criterio dell'umorismo interpretato definito come una sorta di erma di fronte una faccia della quale ride del pianto dell'altra quindi l'umorismo come sentimento dal contrario e leggiamo rapidamente abbiamo detto che ordinariamente nella concezione di un'opera d'arte la riflessione è quasi una forma del sentimento quasi uno specchio in cui il sentimento si rimira volendo seguitare quest'immagine si potrebbe dire che nella concezione umoristica la riflessione è sì come uno specchio ma d'acqua di accia in cui la fiamma del sentimento non si rimira soltanto ma si tuffa e si smorza il friggere dell'acqua è il riso che suscita l'umorista il vapore che ne esala è la fantasia spesso un po' fumosa dell'opera umoristica e ci fa un esempio manzoniano riportato appunto nel suo saggio a questo mondo c'è giustizia finalmente grida Renzo il promesso sposo appassionato e rivoltato tant'è vero che un uomo sopraffatto dal dolore non sa più quel che si dica commenta il Manzoni quindi Renzo ha detto uno sproposito insomma che nella contraddittorietà della sua situazione cioè di chi sta subendo un'ingiustizia gravissima suscita quello che noi che Pirandello ci dice è il sentimento del contrario non l'avvertimento l'avvertimento del contrario che vuol dire cogliere vero questa contrapposizione questa contraddizione superficialmente quella è la comicità l'umorismo è quando invece il sentimento e non l'avvertimento del contrario genera una sorta di di pena esteticamente e psicologicamente l'umorismo può considerarsi come un fenomeno di sdoppiamento nell'atto della concezione erma bifronte che ride per una faccia del pianto della faccia opposta ancora sull'umorismo questo è uno dei dei passaggi più noti è vero quando proprio arriva alla esemplificazione di quello che si intende per umorismo vedo una vecchia signora coi capelli ritinti tutti unti non si sa di quale orribile manteca e poi tutta goffamente imbellettata e parata ad abiti giovanili mi metto a ridere avverto che quella vecchia signora è il contrario di ciò che una rispettabile signora dovrebbe essere posso così arrestarmi a questa espressione comica il comico è appunto un avvertimento del contrario ma se ora interviene in me la riflessione e mi suggerisce che quella vecchia signora non prova forse piacere a pararsi così come un pappagallo ma che forse ne soffre e lo fa soltanto perché pietosamente si inganna che parata così nascondendo le rughe e la canizie riesca a trattenere a sé l'amore del marito molto più giovane di lei ecco che io non posso più riderne come prima perché appunto la riflessione lavorando in me da quel primo avvertimento del contrario mi ha fatto passare a questo sentimento del contrario ed è tutta qui la differenza tra il comico e l'umoristico e a me sembra di una chiarezza eccezionale cioè come dire che quando appunto interviene la riflessione e non può non intervenire se quello che noi vediamo sulla scena o che leggiamo o che vediamo nella vita comune insomma ci dà qualche spunto di riflessione ebbene quando interviene la riflessione non possiamo non accorgerci che dietro una contraddizione ad esempio come questa c'è qualche cosa che ci induce alla compassione alla pietà c'è una fragilità c'è una debolezza c'è un tentativo di superare un problema senza magari riuscirci ma c'è qualche cosa comunque che induce insisto alla pietà e passiamo ai vecchi e ai giovani che come dicevo prima è questo romanzo interpretato a senso unico fino a qualche decennio fa poi per fortuna rivalutato ovvero rivisitato che ci racconta della delusione storica della delusione storica di una Sicilia di un'Italia si potrebbe dire vero opposto risorgimentale in cui le idealità sono cadute calpestate dalla corruzione che è possibile rinvenire ad esempio negli ambienti del potere di Roma nella corruzione dello scandalo della banca di Roma nella corruzione delle elezioni che poi verranno fatte appunto anche in Sicilia e che quindi lascia spazio soltanto a quel sentimento di cui dicevo prima che è il disincanto che è lo scetticismo rispetto a qualunque altra possibilità di rinnovamento bene la pagina che io vi ho qui riportato è proprio una pagina di tipo storico che chiarisce che esemplifica vero quello che io vi sto riassumendo e questa io credo che possa essere tranquillamente letta e gustata con un tempo più tranquillo da ciascuno di voi invece passiamo a una pagina un brano insomma sempre tratto dai vecchi e i giovani che però ci dice qualcos'altro ci dice di una realtà illusoria e questo vale non soltanto per la Sicilia non soltanto per l'Italia non soltanto per la storia post risorgimentale ma vale per la vita dell'uomo dell'uomo di qualunque uomo voglio dire questa illusione vero di verità di realtà che poi invece scopriamo essere qualche cosa di ben diverso allora ho riportato questa immagine che a me personalmente piace molto e che penso molti di voi riconosceranno tratta dal film The Truman Show che è davvero la storia della illusione di realtà più clamorosa che si possa immaginare allora mi sembrava particolarmente adatta a questo brano vero di Pirandello che ci dice una cosa è triste cari miei aver capito il gioco dico il gioco di questo demoniaccio beffardo che ciascuno di noi ha dentro e che si spassa a rappresentarci di fuori come realtà ciò che poco dopo egli stesso scopre come una nostra illusione deridendoci degli affanni che per essa ci siamo dati e deridendoci anche come avviene a me del non averci saputo illudere perché fuori di queste illusioni non c'è più altra realtà le illusioni le illusioni di cui Pirandello fa uso a piene mani richiamando anche Leopardi peraltro quando Leopardi ci dice ci parla delle care illusioni che l'uomo deve saper riconoscere come tali senza però necessariamente sottrarsi fin da subito a quella piccola parte di piacere di illusoria appunto felicità che ci possono dare allora l'illusione per cui noi ci diamo tanta pena perché vogliamo assolutamente comunicare questa nostra illusione come realtà per poi scoprire che invece non è così e che non c'è nient'altro sempre dai vecchi ai giovani a proposito di questa grecità e sicilitudine insieme vero di cui parlavamo prima appunto sempre riguardo alla formazione di Pirandello Don Ippolito è l'interprete della antica aristocrazia siciliana che è rimasto quindi legato ai Borbone alla Sicilia pre garibaldina pre rivoluzionaria pre risorgimentale e che quindi si è creato un suo luogo speciale diciamo nella villa dove abita in questi giardini vicino alla valle dei templi vero di Agrigento in vista dei templi che esiste ancora oggi peraltro e che appunto gli danno il senso di un passato che ovviamente non può più ritornare di un passato glorioso quello a cui lui si rifà il mito appunto della Grecia lui è un archeologo oltre a essere un ancora convinto borbonico è comunque un archeologo che coltiva vero questa sua passione per la terra e per la Sicilia legata a un particolare momento della sua storia e ci dice Don Ippolito guardò i tempi che si raccoglievano austeri e solenni nell'ombra e sentì una pena indefinita per quei superstiti di un altro mondo e di un'altra vita tra tanti insigni monumenti della città scomparsa solo ad essi era toccato in sorte di vedere quegli anni lontani vivi essi soli già tra la rovina spaventevole della città morti ora essi soli in mezzo a tanta vita ad alberi palpitanti nel silenzio di foglie ed ali dal prossimo poggio di tamburello pareva che muovesse al tempio di Era la Cigna sospeso lassù quasi a precipizio sul burrone della Kragas una lunga e folta teoria d'antichi chiomati olivi e uno era là innanzi a tutti curvo sul tronco ginocchiuto come sopraffatto dalla maestà imminente delle sacre colonne e forse pregava pace per quei clivi abbandonati pace da quei tempi spettri di un altro mondo e di benaltra vita e qui siamo invece no ecco un'ultimissima considerazione a proposito dei vecchi e i giovani mi pare abbastanza evidente come in alcune parti io ne ho riportate alcune ma in realtà in molte parti di questo romanzo noi possiamo ritrovare il pirandello classico quello a cui siamo abituati vero che riflette in continuazione sulla interiorità dell'uomo che si ferma a considerare la vita del passato e quindi questo fluire questo passaggio di vita e morte nella fattispecie legato all'osservazione dei templi ma comunque in questo tipo immerso in questo tipo di riflessioni questa è la premessa del fumatia pascal che lui stesso definisce come premessa seconda filosofica a modi scusa l'ho riportato pari pari siamo o non siamo su un'invisibile trottolina cui fa da ferza un fil di sole su un granellino di sabbia impazzito che gira e gira e gira senza sapere perché senza pervenire mai a destino come se ci provasse gusto a girare così per farci sentire ora un po' più di caldo ora un po' più di freddo e per farci morire spesso con la coscienza di aver commesso una sequela di piccole sciocchezze dopo 50 o 60 giri copernico copernico don eligio mio ha rovinato l'umanità irrimediabilmente ormai noi tutti ci siamo a poco a poco adattati alla nuova concezione dell'infinita nostra piccolezza a considerarci anzi men che niente nell'universo con tutte le nostre belle scoperte e invenzioni e che valore dunque volete che abbiano le notizie non dico delle nostre miserie particolari ma anche delle generali calamità storie di vermucci ormai le nostre ecco già nella premessa ci dice tutto don eligio è il prete il sacerdote a cui mattia si rivolge tornando al suo paese per cercare di recuperare un contatto che fosse minimamente autentico laddove lui appunto non sa più che cosa sia la sua autenticità e allora ecco tutta questa riflessione che fa da premessa dove eccolo qui un elemento vero di umorismo è Copernico ad aver rovinato l'umanità e la contraddizione sta nel fatto che Copernico è lo scienziato che ha rivelato una verità vero sul fatto che la terra gira è che è un piccolo granello di sabbia nell'universo al contrario di quello che si pensava prima allora di fronte a questa scoperta copernicana qual è la dimensione che l'uomo ha capito per sé quella di un verme di un nulla che niente può fare rispetto voi vedete alla casualità delle calamità generali oppure anche rispetto alle scoperte e alle invenzioni ecco quello che dicevo prima la perdita di fiducia nella ragione e nella ragione scientifica a che cosa ci serve ma vedete quanto è leopardiana questa domanda che si fa appunto Mattia Pascal la domanda su a che cosa serve tutto questo questo sapere che la terra gira e che gira intorno al sole e che gira per 50 o 60 giri per ciascuno di noi e poi tutto si esaurisce tutto finisce ancora Mattia Pascal in una serie di riflessioni nel momento in cui ha deciso di assumere un'identità nuova di trasformarsi in Adriano Mace vivrò con me e di me come ho vissuto finora sì ma ecco per dir la verità temevo che dalla mia compagnia non mi sarei tenuto né contento né pago e poi toccandomi la faccia e scoprendomela sbarbata passandomi una mano su quei capelli lunghi o rassettandomi gli occhiali sul naso provavo una strana impressione mi pareva quasi di non essere più io di non toccare me stesso siamo giusti io mi ero conciato a quel modo per gli altri non per me dovevo ora stare con me così mascherato e se tutto ciò che avevo finto e immaginato di Adriano Mace non doveva servire per gli altri per chi doveva servire per me ma io semmai potevo crederci solo a patto che ci credessero gli altri ora se questo Adriano Mace non aveva il coraggio di dire bugie di cacciarsi in mezzo alla vita e si appartava e rientrava in albergo stanco di vedersi solo in quelle tristi giornate d'inverno per le vie di Milano e si chiudeva nella compagnia del morto Mattia Pascal prevedevo che i fatti miei avrebbero cominciato a camminare male che insomma non mi si apparecchiava un divertimento e che la mia bella fortuna allora ecco tutte le riflessioni vero di Adriano Mace nel momento in cui comincia a realizzare come Adriano Mace Mattia Pascal naturalmente vero come sia difficile vivere in un'altra città Milano poi diventerà Roma poi passerà a Roma ma comunque in un'altra città in un altro ambiente dove nessuno lo conosce quindi l'illusione era quella di poter tranquillamente diventare un altro e invece comincia a capire che non è possibile altro brano vero che ci aiuta a capire questo ma io vi leggo quello a destra quello con la scritta in bianco che è un dialogo che interviene tra Mattia Pascal in quel momento Adriano Mace e un conoscente una conoscenza casuale vero fatta lì in un bar di Milano lei non è di Milano è vero no di passaggio sì bella città Milano eh bella già parevo un papagallo ammaestrato e più le sue domande mi stringevano e io con le mie risposte mi allontanavo e ben presto fui in America ma come lo metto mio seppe che ero nato in Argentina balzò dalla sedia e venne a stringermi calorosamente la mano ah mi felicito con lei caro signore la invidio ah l'America ci sono stato c'era stato scappa in questo caso ma frettai a dirgli devo io piuttosto felicitarmi con lei che c'è stato perché io posso quasi quasi dire di non esserci stato tutto che nativo di là ma ne venni via di pochi mesi sì che dunque i miei piedi non hanno proprio toccato il suolo americano ecco che cosa si deve inventare in un colloquio qualunque parlando con una persona praticamente sconosciuta per la paura di essere smascherato si deve inventare allora di essere nato in America poi questa combinazione c'è stato quindi di esserne venuto via subito è questo cumulo di bugie che alla fine sconforta e costringe eh mattia pascal a tornare a essere mattia pascal ed eccolo qui il finale del libro in un'immagine che secondo me è bellissima tratto da un film che è stato fatto proprio sul romanzo le due vite di mattia pascal di mario monicenni nell'85 con protagonista un marcello mastroianni che era calato perfettamente nella parte e che era proprio la tipologia di attore giusta vero per diventare mattia pascal Adriano Meis ho messo circa sei mesi a scrivere questa mia strana storia aiutato da lui da Don Eligio il prete che gli ha consigliato proprio per scaricarsi di mettere per iscritto tutta la sua vicenda di quanto è scritto qui e gli serberà il segreto come se l'avesse saputo sotto il sigillo della confessione abbiamo discusso a lungo insieme sui casi miei e spesso io gli ho dichiarato di non saper vedere che frutto se ne possa cavare intanto questo egli mi dice che fuori della legge fuori di quelle particolarità lieti o triste che siano per cui noi siamo noi caro signor pascal non è possibile vivere ma io gli faccio osservare che non sono affatto rientrato né nella legge né nelle mie particolarità mia moglie è moglie di pomino e io non saprei proprio dire chi io mi sia nel cimitero di Miranio sulla fossa di quel povero ignoto che s'uccise alla stia c'è ancora la rapide dettata da Lodoletta colpito da versi fati Mattia Pascal bibliotecario cuor generoso anima aperta qui volontario riposa la pietà dei concittadini questa lapide pose io ho portato la corona di fiori promessa e ogni tanto mi reco a vedermi morto nel sepolto là qualche curioso mi segue da lontano poi al ritorno si accompagna con me sorride e considerando la mia condizione mi domanda ma voi insomma si può sapere chi siete mi stringo nelle spalle socchiudo gli occhi e gli rispondo caro mio io sono il fu Mattia Pascal bene e passiamo allora ad altro ad altro romanzo che è questo di cui ancora non abbiamo parlato vi ho solo citato ovvero Quaderni di Serafino Gubbio Operatore che tratta pur sempre le tematiche tipicamente pirandelliane aggiungendo però una qualche cosa di nuovo operatore operatore cinematografico ho detto ovvero prima che Pirandello negli ultimi anni di vita è arrivato addirittura a scrivere delle scenografie di film tratti dai suoi romanzi tratti dalla sua produzione ma qui il personaggio dell'operatore non è quello di chi crea come ben sappiamo ma è quello di chi semplicemente obbedisce alla regista piuttosto che allo sceneggiatore all'autore quindi guarda attraverso la macchina da presa ma non fa altro che girare la manovella a seconda di quello che gli dicono di fare allora c'è il tema della macchina la macchina che è appunto l'attualità del tempo abbiamo parlato di una seconda rivoluzione industriale che modifica radicalmente la vita degli uomini del tempo e che introduce molto più di quanto non sia avvenuto con la prima rivoluzione industriale la macchina i futuristi hanno esaltato la macchina e l'applicazione della macchina alle attività dell'uomo come appunto quella che voglio dire l'elemento che favorirà un progresso rapido e immediato è incredibile Pirandello al contrario vede nella macchina qualche cosa di estraneo addirittura di ostile che toglie umanità all'uovo lo disumanizza gli toglie ancora una volta un pezzo di identità quanto di vita le macchine ha mangiato con la voracità delle bestie afflitte da un verme solitario si rovescia qua nelle ampie stanze sotterranee parliamo naturalmente di cinema le stanze sotterranee sono quelle nelle quali si fanno le attività di montaggio la vita ingoiata dalle macchine è lì in quei vermi solitari dico in quelle pellicole già avvolte nei telai bisogna fissare questa vita che non è più vita perché un'altra macchina possa ridarle il movimento qui in tanti attimi sospeso siamo come in un ventre nel quale si stia sviluppando e formando una mostruosa gestazione meccanica e la negatività della macchina vero emerge in tutta la storia di Serafino Gubbio operatore perché Serafino Gubbio si sentirà gradualmente trasformato in una specie di protesi della macchina in questo caso la macchina da presa la mano che gira la manovella ci dirà e intanto che mondaccio signor Gubbio che mondaccio è questo che schifo ma paiono tutti che so ma perché si deve essere così mascherati 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 me lo dica lei perché appena insieme l'uno di fronte all'altro diventiamo tutti tanti pagliacci scusi no anch'io anch'io mi ci metto anch'io tutti mascherati questo è un'area così quello è un'area cos'ha e dentro siamo diversi abbiamo il cuore dentro come come un bambino rincantucciato offeso che piange e si vergogna eccolo allora il tema della maschera siamo in un ambiente di attori allora è facile vero viene da sé direi il passaggio dalla attività di attore alla vita diciamo comune normale ma non si capisce più niente perché anche nella vita comune normale in realtà vedete ci dice Pirandello ciascuno di noi si maschera fin dal primo approccio con l'altro si costruisce una personalità un'identità che non è la sua vera e alla fine soddisfo scrivendo a un bisogno di sfogo prepotente scarico la mia professionale impassibilità professionale impassibilità il manovratore l'operatore deve essere impassibile e rimarrà impassibile anche Serafino Gubbio quando davanti ai suoi occhi si consumerà una tragedia e cioè l'attore invece di uccidere la tigre che avrebbe dovuto uccidere uccide l'attrice di cui era estremamente geloso per essere poi a sua volta sbranato dalla tigre e tutta questa tragedia si consuma davanti alla cinepresa di Serafino Gubbio che rimane impassibile anche davanti a questo ormai disumanato non è altro e dice con me vendico tanti condannati come me a non essere altro che una mano che gira una manovella eccola qui la disumanizzazione totale e allora appunto l'avversione per la macchina o comunque se proprio non vogliamo parlare di avversione perché poi ripeto Pierandello è il primo ad adeguarsi per la sua curiosità di creatore vero a partecipare a questa attività di cinema se non vogliamo parlare di ostilità nei confronti della macchina ma sicuro scetticismo bene arriviamo quindi a uno nessuno e centomila sperando sempre che il tempo ci permetta di ecco e vi ho detto vero già qualche cosa di questo Vitangelo Moscarda che scopre improvvisamente in una vita all'interno di una vita comune quieta tranquilla senza variazioni di uomo sposato senza figli ancora giovane benestante eccetera scopre improvvisamente di non essere giudicato dagli altri per quello che lui pensa di essere per arrivare poi alla fine a non essere più sicuro nemmeno dell'identità che lui si era riconosciuta non mi conoscevo affatto non avevo per me alcuna realtà mia propria ero in uno stato come di illusione continua quasi fluido malleabile mi conoscevano gli altri ciascuno al suo modo secondo la realtà che mi avevano data cioè vedevano in me ciascuno un Moscarda che non ero io non essendo io propriamente nessuno per me tanti Moscarda quanti essi erano eccolo qua il titolo uno nessuno centomila uno l'identità che lui credeva di avere per sé di essere per sé centomila tante quante sono le infinite possibilità di incontri nella vita per cui ciascuna delle persone che incontriamo ci vede così come noi non pensiamo assolutamente di essere c'è una maschera per la famiglia una per la società una per il lavoro e quando stai solo resti nessuno eccola siamo già a una conclusione amara vero perché da solo non si è nessuno in realtà vale la pena di crearsi una immagine quello che diceva anche Mattia Pascal ma se io mi sono trasformato in Adriano Meis per poi rimanere da solo perché non ho il coraggio di affrontare tutte le bugie che devo raccontare al mondo per stare con gli altri a cosa serve allora un'identità diversa per stare con me da solo e qui lo stesso modo tanto non si conosce non ha più nessuna certezza quando noi diciamo la crisi delle certezze perché se ci pensate bene questo è il meno che possa seguire dalle tante realtà insospettate che gli altri ci danno superficialmente noi solviamo chiamarle false supposizioni erronei giudizi gratuite attribuzioni cioè ciascuno di noi quando sente il giudizio degli altri che non corrisponde a quello che noi abbiamo di noi in fondo le definisce così e risolve leggermente superficialmente false supposizioni erronei giudizi gratuite attribuzioni ma tutto ciò che di noi si può immaginare è realmente possibile ancorché non sia vero per noi allora quello che è vero per gli altri è possibile che per noi non sia vero gli altri se ne ridono è vero per loro tanto vero che può anche capitare che gli altri se non vi tenete forte alla realtà che per vostro conto vi siete data possono indurvi a riconoscere che più vera della vostra stessa realtà è quella che vi danno loro nessuno più di me ha potuto farne esperienza un'esperienza drammatica perché quello che attraversa vero Vitangelo Moscarda è davvero una serie di rivelazioni drammatiche per arrivare a una conclusione cadeva a ogni orgoglio vedere le cose con occhi che non potevano sapere come gli altri occhi intanto ne vedevano parlare per non intendersi non valeva più nulla essere per sé qualche cosa e nulla più era vero se nessuna cosa per sé era vera voi sapete che per Pirandello si parla di relativismo noseologico cioè di una conoscenza improntata al relativismo per cui ciascuno vede le cose secondo il proprio intendimento ciascuno per suo conto l'assumeva come tale e se ne appropriava per riempire comunque la sua solitudine il far consistere in qualche modo giorno per giorno la sua vita la facoltà di illuderci che la realtà d'oggi sia la sola vera se da un canto ci sostiene dall'altro ci precipita in un vuoto senza fine perché la realtà d'oggi è destinata a scoprire l'illusione domani e la vita non conclude non può concludere se domani conclude è finita è quello che dicevamo prima non può concludere la vita che è in continuo divenire che cambia minuto per minuto secondo per secondo addirittura noi non siamo mai gli stessi quello che ci circonda muta in continuazione e non può non essere così perché nel momento in cui invece la vita conclude vuol dire che la vita è finita e l'ultima diapositiva vero per fortuna vostra che è proprio quella della pagina finale di uno nessune centomila quando Vitangelo Moscarda ha ormai assunto la decisione e sta già anzi vivendo in quella solitudine voluta in quell'isolamento totale a contatto solo con la natura e l'aria è nuova e tutto attimo per attimo è com'è che si avviva per apparire volto subito gli occhi per non vedere più nulla fermarsi nella sua apparenza e morire così soltanto io posso vivere ormai rinascere attimo per attimo impedire che il pensiero si metta in me di nuovo a lavorare e dentro mi rifaccia il vuoto delle vane costruzioni ecco il pericolo il pensiero è il pensiero che lavora e che fissa schematizza crea le gabbie crea le forme che sono però vuoto vuoto di costruzioni vane la città è lontana me ne giunge a volte nella calma del vespro il suono delle campane ma ora quelle campane le odo non più dentro di me ma fuori per sé sonare che forse ne fremmono di gioia nella loro cavità ronzante in un bel cielo azzurro pieno di sole caldo tra lo stridio delle rondini o nel vento nuvoloso pesanti e così alte sui campanili aerei pensare alla morte pregare c'è pure chi ha ancora questo bisogno e se ne fanno voce le campane io non l'ho più questo bisogno perché muoio ogni attimo io e rinasco nuovo e senza ricordi vivo e intero non più in me ma in ogni cosa fuori grazie a tutti